Molto bello, molto utile, fa tanti soldi, i dentisti, più che i medici. Piona ha il ginasio e Laima ha dieci anni, Laima ha dieci anni quest'anno. Katia ne ha già nove, Leon ne ha già nove. Dovrei menzionare anche Ronaldo, Ronaldo è un figlio adottivo di Giovanni. Non tutto oro, non tutto, ma insomma anche a lui, ho voluto bene anche a lui. Basta, adesso sono stanca, stanca, stanca. Adesso guardo solo avanti e vedrò cosa capiterà. Quanti bimbi nasceranno ancora? Adesso ho cominciato con Nando. Nando che oggi compie primo anno. Eh, ma la vita va avanti, va avanti, con gli alti e i bassi. Ma io guardo solo quello che è vero. Tutti i dolori li nascondo in cuore, tutti chiusi, chiusi, chiusi. E vedo solo un bello. E così vado avanti, avanti, passo, passo, passo. E ai cent'anni racconterò cosa hanno fatto i bis, i puttini. E basta, addio. Ciao. Ferti. E ai cent'anni racconterò cosa hanno fatto i bis, i bici, i bici, i bici. Grazie a tutti Grazie a tutti